Prima di tutto ci vuole il consenso di tutte le popolazioni interessate perché è per loro che evidentemente va valutato se è più funzionale e più giusto un servizio sul territorio. Realisti e con i piedi per terra e avere ben presente quali passi fare per arrivare all'obiettivo. Tre quelli indicati dall'ex procuratore capo del Tribunale di Chiavari prima e di quello di Genova poi Francesco Cozzi intervenuto nel corso della puntata di Direttamente Su dedicata proprio alla possibile riapertura degli uffici giudiziari del Levante. Avere il consenso della popolazione e delle istituzioni locali. Il primo avere a disposizione il contenitore dove insediare gli uffici e il personale. Poi capire quali attività riattivare e quali invece lasciare di competenza di un tribunale più strutturato come quello di Genova. Il riferimento per quest'ultimo punto sono i reati di tipo penale legati alla pubblica amministrazione. Faccio un esempio. I reati contro la pubblica amministrazione dovrebbero essere di competenza del distretto, del capoluogo del distretto. Un reato di abuso d'ufficio o di corruzione fatto in un'amministrazione piccola è molto più difficilmente gestibile in un piccolo tribunale che è contiguo a questa realtà. Altro punto da tenere ben presente, ha continuato Cozzi, è la piena disponibilità dell'organico del ritrovato tribunale, elemento che potrà garantire quell'efficienza che contraddistingueva il tribunale di Chiavari prima della sua soppressione. Il percorso è tracciato ma il cammino da fare non è che all'inizio. Sarà chiamato a fare da guida il presidente del comitato Salviamo il Tribunale, Gabriele Trossarello. A lui l'incarico di coordinare la commissione consigliare che il comune di Chiavari istituirà in queste ore. Un lavoro non facile ma che potrà contare sull'esempio concreto di un'altra realtà soppressa nel 2013 che in questi mesi ha già percorso buona parte del cammino necessario per ritornare operativo sulla base delle indicazioni date dal nuovo esecutivo. È quello di Bassano del Grappa che sta per diventare il tribunale della Pedemontana. Dobbiamo ripercorrere le loro tappe, sappiamo cosa c'è da fare, non so se riusciremo a farlo, anzi riusciremo a farlo, bisogna vedere se poi riusciremo a presentare un progetto che sia sostenibile ed accoglibile. Il lavoro sicuramente ci sarà, l'impegno ci sarà, è doveroso. Grazie. Grazie.